Da quanti giorni non sento la mia voce? Sta cambiando Sento meno voce rispetto ad una volta Non so se è un bene A volte penso che in realtà fossi una delle voci scomparse E allora mi chiedo Chi sono? La vecchia voce non si vedeva mai Negli specchi Quindi forse era lei l'impostore Pensavo che sarebbe stato diverso Stupido Chiunque lo pensava Sto mangiando abbastanza Mi sa sempre male nello stomaco Alterno fame E nausea Mi dispensa rifornita Organizzata E piena di vermi Sto muorendo? Forse dovrei andare da un dottore No No Sto bene così Mi dispenserà Grazie a tutti. Sono circondato dalla morte degli altri. Dalla morte di tutti. E io? Non puoi soffrire per gli altri, non puoi soffrire per il mondo intero. Sei uno e uno solo. Soffri per uno. Ma io sono il mondo perché sono dentro il mondo insieme a tutti e tutti soffrono e io... Io sono con i miei vermi. Credo che ci sia un fantasma in questa casa. Che ore sono? Sto di nuovo cucinando. Che cosa ho fatto tutto il giorno? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Forse non sono cambiato affatto. Io e il fantasma siamo diventati amici. Grazie a tutti.